quando te ne porto? 200 o 300? 200, 300, 400 quando non vuoi? porto meno 150 ah va bene non hai il tuo tuo amore ma è una cosa ma qualcuno video non l'hai e di? ah beh si ah si ok 5 5 va bene ok portare i coglieli dai ciao oh ti vuole? io si va bene vuole meglio ah va bene vi preparo si che vuole meglio va bene si allora con le mie sorelle va bene anche si ascoltando sulle due e mezza viene il mio padre se ne mette uno e ti pare il suo poi più verso le tre tre e un quarto tre e mezza vengo io e ti faccio gli altri due va bene il tuo papaglio lo devo mettere? a mio padre lo devo mettere a me anche quello di mia sorella lo dividi e lo metti di lato questo padre ok si ok grazie non hai spazio ninja? eh si prepara una droga rossa due eh sto arrivando qua sulle mare va bene ciao 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 come hai chiamato cosa ieri? ah ah cercando il cliente ah non cercando il cliente, ma il prezzo è sempre chi tu è? ah non lo sace no, l'hanno calato hanno calato il prezzo? si si ma se non c'è uno sottaruno io non c'è un segno tranquillo ah certo ieri è massimo, ieri è massimo ma c'era una pagina di 50 e ieri è una pagina di 70 hai sbagliato? hai sbagliato? hai sbagliato? ho rotto ieri ma scusate? ah ma che che vedense vedi uccidavagio a verona eh ma non è che c'è altro che è rastornato ah che cosa vedi? che cosa vedi? che cosa vedi? che cosa vedi? ci stiamo che vedi? grazie a tutti 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 grazie a tutti